Sul principio di responsabilità che ci è stato ricordato prima, che sono perfettamente d'accordo, ma invocare il principio di responsabilità significa essere d'accordo anche con noi, cioè nel dire che queste norme dettate dai DPCM sono a volte cervellotiche, sono a volte impossibili da rispettare, sono a volte contrarie al comune senso del rapporto interpersonale. Poi certo, se invece si affidano al senso di responsabilità, come la moglie di Cuperlo, e come abbiamo fatto tutti quelli responsabili, se uno ha un parente anche autosufficiente, ma è un anziano, ci sta attento. Parafrasando la Meloni su Mastercard, per tutto il resto c'è l'Aquaniti, quando non capisci il DPCM incomprensibile, va bene. Fammi tornare un attimo. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Era una battuta, stavo scherzando, era una battuta. Sì, sì, ma voglio dire che l'Aquaniti è un uomo di governo, quindi legge il DPCM cercando sempre di giusti... Polizia di Stato. Eccolo, non è dipendente del Ministero. Polizia di Stato. Io sono un appartenente alla Polizia di Stato. Ma se lei va... Io sono dipendente del Ministero degli Interni. Quindi lei... Perché è dipendente del Ministero degli Interni. Ah, io quello sto dicendo, che lei è dipendente del Ministero degli Interni. È diverso dall'Ess... Bene. È diverso da dire di essere... Va bene. Sì, sì, va bene, va bene. Io non credo che lei sia un poliziotto che sta per strada a controllare le persone. Lei è un poliziotto che sta al Ministero. Ok, con tanto rispetto. Io rispetto tutti i poliziotti. No, no. Voglio dire... È il portavozione funzionale di polizia. Vabbè, non mi vuole fare parlare. No, ma non sono... Vabbè, però quello che voglio dire è che... E va bene, ma lei me lo vuol far dire quello che voglio dire. Che secondo me, qualunque sia il suo ruolo, certe letture che lei dà del DPCM sono giustificative della incongruenza di molte norme. Cioè lei è di buonsenso, è una persona responsabile, cerca di aggiustare con le parole le cose sgangherate che scrivono nel DPCM. Come quando alla domanda posso andare a trovare la nonna? Lei ha detto sì, per quelli non autosufficienti. La risposta è no, se non sono autosufficienti. Non è sì per gli autosufficienti. Questo è il senso del mio intervento. Grazie. Va bene, allora, ho capito. Volevo sentire... Posso rispondere... La Quanniti è la prima volta che vedo che si infiamma nel dibattito la Quanniti che di solito è perfetta. No, 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 no. No, no, no. Prego, la Quanniti, dica e poi devo arrivare da Forgatori e da Cuperlo. L'ho detto che lo rispetto. Lo rispetto. Io mi auguro, e io ovviamente rispetto lei che è un uomo delle istituzioni e del dovere si mancherette. Mi permetto solo di dire che il mio auspicio è di riuscire a dare le informazioni alle persone per evitare di violare il DPCM. Questo è l'intento con cui io partecipo alle trasmissioni. Va bene, va bene. Se do un messaggio diverso un pochettino... Grazie. Chiedo scusa se non si è sentito. Va bene. Grazie.